Buongiorno amici, ragazzi, curiosi, appassionati, chiunque voi siate, bentornati. Continuiamo a occuparci naturalmente del rinascimento in filosofia. Abbiamo visto nelle scorse lezioni il platonismo di Marsilio Ficino, di Picco della Mirandola. Naturalmente però durante il rinascimento non c'è solo la reviviscenza, la rinascita del platonismo. Continua a esistere l'aristotelismo, anzi la filosofia aristotelica continua a farla da padrone nelle università, anche nelle università del 400, del 500. Però, come abbiamo già detto nelle lezioni introduttive sull'umanesimo rinascimento in filosofia, l'aristotelismo rinascimentale del 400 e soprattutto di una figura importantissima di cui oggi parliamo, come Pietro Pomponazzi, è diverso rispetto all'aristotelismo scolastico a cui siamo stati abituati nel 200 oppure nel 300. Si tratta di una visione di Aristotele nuova, più moderna, più laica, un'aristotel rinascimentale, un'aristotel laico. Ecco Pietro Pomponazzi diceva che bisogna riscoprire il vero Aristotele, l'aristotel non falsificato da Tommaso, l'aristotel autentico, l'aristotel che proveniva alla scuola di Pietro Pomponazzi e altri dalla lettura diretta e dalla traduzione diretta degli originali greci, delle opere originali in greco di Aristotele, prima effettuate dagli arabi e poi realizzate in maniera diretta in occidente. Abbiamo già parlato in passato delle opere che permettono di far conoscere in traduzioni molto molto migliori, molto più efficaci, molto più fedeli il pensiero di Aristotele. Per esempio la pubblicazione in latino del commento di Averroè, del commento di Averroè, filosofo arabo-islamico, del commento di Averroè al de anima, al peripsuches, al de anima di Aristotele, così come tante altre traduzioni. Per esempio le traduzioni di Alessandro di Afrodisi, al quale nel periodo ellenistico aveva già sostenuto un'interpretazione laica di Aristotele. Quindi abbiamo la scuola di Pomponazzi, ma anche di altri, propone un Aristotele diverso. Vedete anche l'impostazione di personaggi come questi nuovi umanisti rinascimentali del Quattrocento, era differente rispetto a quella dei personaggi del Duecento, del Trecento. Pomponazzi era sì un professore universitario, ma non era un sacerdote, come molti magistri dei secoli precedenti. Molto spesso i nuovi docenti universitari, compreso Pomponazzi, avevano una laurea in medicina, molto spesso applicavano la filosofia di Aristotele a problemi pratici, ai problemi che riguardano la medicina, oppure le scienze, le scienze del tempo. Questo avviene in università come Pavia, come Bologna, ma soprattutto a Padova. Pietro Pomponazzi infatti nasce a Mantua nel 1462, però si forma a Padova, dove comincia ad insegnare molto giovane dopo aver appunto studiato medicina. Pomponazzi poi si trasferisce nel 1511 a Bologna, e a Bologna morirà nel 1525. Tutte le opere importanti di Pomponazzi appartengono al suo ultimo periodo, cioè al periodo bolognese. Però ricordiamo che a Padova Pomponazzi aveva fondato una vera e propria scuola, alla scuola del cosiddetto aristotelismo padovano, che avrà anche esponenti, grandi discepoli di Pomponazzi, tra cui uno in particolare, Jacopo Zabbarella, di cui abbiamo parlato anche altrove, che influenzerà anche Galileo Galilei, è il metodo scientifico di Galileo Galilei. L'opera più importante, comunque, è la prima opera di Pomponazzi, risale al 1516, attenzione, si chiama De Immortalitate Anime, sull'immortalità dell'anima, opera che susciterà numerose controversie e avrà molto successo. Qual è il problema fondamentale a cui Pomponazzi si applica? In che modo Pomponazzi riesce a rendere Aristotele un Aristotele laico, un Aristotele naturalistico? Alla scuola di Pomponazzi Aristotele verrà valutato più per le sue opere di fisica, per le sue opere di biologia, per le sue opere di logica, e meno per quanto riguarda la metafisica o la gnosiologia. Quindi di Aristotele si preferiscono, ecco, le opere che riguardano la fisica, ma anche le opere che riguardano la morale. Il problema dell'immortalità dell'anima. Tommaso e altri, nella scolastica e qualche secolo precedente, avevano sostenuto che Aristotele faceva l'anima immortale. Ne abbiamo parlato anche in altri cicli di video lezioni, ovviamente ne abbiamo parlato anche relativamente a Tommaso. Questa interpretazione di Tommaso d'Aquino e di tutta la scolastica, diciamo così, la scolastica dei secoli precedenti, è fallace, è stata tra l'altro dimostrata come errata anche dagli studi più recenti, degli studi del XX secolo, del XXI secolo, su Aristotele. Aristotele. Aristotele pensa che l'anima sia mortale. Quindi si tratta di una falsificazione di Aristotele, voluta oppure no? Voluta per adattare Aristotele, per torcerlo agli interessi della Chiesa Cattolica? Oppure forse non voluta da parte di Tommaso, da parte di altri? Forse una falsificazione di Aristotele non voluta, dovuta alla scarsa conoscenza dei testi di Aristotele, quindi forse un equivoco, un errore. In ogni caso, Tommaso d'Aquino e altri pensavano che Aristotele facesse l'anima immortale. Invece, nel testo aristotelico è chiaramente detto che l'anima è mortale. Ripeto, nessuno attualmente, nessuno degli storici seri di Aristotele attualmente mette in discussione questo. Cioè che il grande Stagirita, il grande Aristotele, abbia considerato l'anima mortale, a differenza del suo discepolo Platone, che invece cercò di dimostrare appunto l'immortalità dell'anima. Allora, questa tesi dell'anima mortale in Aristotele era già stata in realtà sostenuta, come vi ho detto, sia da Alessandro di Afrodisia nell'ellenismo, sia durante il Medioevo dal filosofo arabo-islamico Averroè, di cui appunto ho già parlato nella lezione a lui dedicata, nell'ambito della playlist sulla filosofia medievale. L'equivoco, l'oggetto del contendere, e io l'ho spiegato anche parlando di Aristotele, nelle lezioni su Aristotele, è il famigerato intelletto attivo, oppure agente, oppure poietico, oppure produttivo, viene chiamato in tantissimi modi diversi, attivo, agente, poietico, produttivo. Compare a un certo punto in Aristotele una mezza paginetta che parla dell'intelletto attivo, agente, poietico, produttivo, che è Aristotele, contrappone invece all'intelletto in potenza, all'intelletto potenziale. L'intelletto in potenza è quello limitato di ciascun essere umano che può conoscere con l'anima, naturalmente con la parte intellettiva dell'anima, può conoscere ogni uomo con la parte intellettiva dell'anima soltanto un numero limitato di intelligibili, un numero limitato di conoscenze durante la sua vita mortale. Ogni volta che conosce, la conoscenza viene interpretata da Aristotele, come tantissimi altri fenomeni, come passaggio dalla conoscenza all'atto. Quindi Aristotele dice, io quando non conosco qualcosa, quella cosa è conosciuta in potenza nel mio intelletto. Quando io conosco poi quella cosa, la conoscenza passa dalla potenza all'atto. Tuttavia nella nostra limitata vita umana, nella nostra limitata esperienza, nella nostra limitata saggezza, possiamo conoscere in atto soltanto una parte limitata degli intelligibili, però a questo punto viene il mistero, è una cosa piuttosto difficile da interpretare. Aristotele si inventa una mezza paginetta, appunto che non si sa bene come collocare all'interno del corpus aristotelico. Dice Aristotele che oltre all'intelletto in potenza, che è l'intelletto, ripeto, del singolo essere umano, esiste un unico intelletto, che è l'intelletto attivo, agente, poi etico produttivo. L'intelletto in atto, un unico intelletto, che conosce tutti gli intelligibili, li conosce eternamente, li conosce da sempre e per sempre, e dice Aristotele che l'intelletto in atto illumina l'intelletto in potenza. Quindi ogni volta che io conosco qualcosa che prima non conoscevo, quindi che io ho una conoscenza, che passa dalla potenza all'atto, l'intelletto in potenza è stato illuminato dall'intelletto in atto, che fornisce le conoscenze che prima, ad ogni singolo essere umano, erano soltanto lo stadio potenziale. Che cos'è questo intelletto in atto, che è unico, eterno? Non si capisce. Molti interpreti lo identificano come un intelletto divino. E quindi qui nasce la falsificazione di Tommaso, capite? Si falsifica Aristotele per fargli affermare scorrettamente l'immortalità dell'anima. Infatti Tommaso e altri dicono che l'intelletto dell'uomo, per quanto limitato, appunto la parte migliore dell'anima, la parte intellettiva, sarebbe comunque in contatto o farebbe parte, attenzione, dell'intelletto in atto. E quindi quando l'essere umano muore, si disfa il corpo, si disfano le altre due parti inferiori, quella nutritiva o vegetativa, e quella sensitiva dell'anima, ma in realtà la parte intellettiva dell'anima, facendo parte dell'intelletto divino, dell'intelletto in atto, che sarebbe l'intelletto divino, sopravviverebbe per l'eternità. E quindi in questo modo, truffaldino rispetto a quello che scrive Aristotele, viene fondata da Tommaso e da tanti altri nella scolastica medievale, la dottrina fasulla dell'immortalità dell'anima in Aristotele, sfruttando appunto questa mezza paginetta, per niente chiara, nelle opere di Aristotele, dell'intelletto in atto. si dice, ripeto, che l'intelletto umano farebbe parte dell'intelletto in atto, considerato un intelletto eterno, destinato a non morire, e quindi l'anima umana sarebbe immortale. Quest'idea era stata già smentita, ve l'ho detto, nel tardo ellenismo, da Alessandro di Afrodisia, poi nel Mediuevo, dal filosofo arabo-islamico Averroè, che conoscevano Aristotele in greco, che dominavano le vere fonti di Aristotele, poi il greco in occidente non si legge più, e quindi è arrivato Tommaso d'Aquino, che ha, insomma, arrampicandosi un po' con gli specchi, dando un'interpretazione, non solo lui, ma tanti altri, della scolastica, dando un'interpretazione, di un certo tipo, hanno fatto dire ad Aristotele, scorrettamente, che l'anima è immortale. Allora, Pietro Pomponazzi, si rifà ad Alessandro di Afrodisia, ad Averroè, sostenendo che il vero testo di Aristotele sostiene che l'anima sia mortale, cioè la mortalità dell'anima. E perché Pomponazzi pensa, noi oggi diciamo correttamente, che Aristotele ammettesse la mortalità dell'anima. Aristotele, secondo Pomponazzi, non può in nessun modo, non potrebbe dimostrare, neanche se volesse, l'immortalità dell'anima. Non l'ha dimostrata, e d'altra parte dice che Pomponazzi, Pomponazzi sostiene, attenzione, che la filosofia, la filosofia aristotelica, che per lui è la filosofia compiuta, ma qualunque tipo di filosofia, qualunque tipo di ragionamento, non potrebbe mai dimostrare l'immortalità dell'anima. Se noi consideriamo razionalmente, filosoficamente, con le sole armi della ragione, la questione della mortalità o dell'immortalità dell'anima, con le sole argomentazioni della ragione, cioè dimostrando le cose da filosofi, dobbiamo omettere che l'anima è mortale. Non c'è nulla da fare. Aristotele stesso lo dice chiaramente quando dice che l'anima è la forma di un corpo che ha la vita in potenza. Quindi, abbiamo visto anche nella lezione di Aristotele, l'individuo umano è un sinolo, ricordate, un sinolo è una sostanza composta da materia e forma. La forma è l'anima e la materia è un corpo che ha vita in potenza. E quindi, il corpo, d'accordo, la forma è la materia. Ricordate che ogni sinolo, ogni sostanza aristotelica, è composto da forma e materia. Nell'individuo umano, la materia, ovviamente, è il corpo, che è la potenza, mentre invece l'anima è la forma, che è l'atto, che permette alla materia di avere una vita, che dà la vita alla materia. Come tutti i sinoli aristotelici, lo sapete bene, materia e forma sono inestricabili, sono un tutt'uno, questo appunto vuol dire sinolo un tutt'uno, non possono esistere l'una separatamente dall'altra. Quindi, vedete, Aristotele chiaramente dice, così ribadisce Pomponazzi, che l'anima è la forma del corpo, che è la materia del sinolo. L'anima non è una sostanza, l'anima è solo una parte, una delle due caratteristiche che formano la sostanza. E quindi, una volta avvenuta meno la materia in una sostanza, come in tutte le sostanze aristoteliche, viene meno anche la forma, quando la sostanza si distrugge. Quindi, essendo la forma, l'anima del corpo, l'anima muore insieme al corpo. Questo è quello che dice Aristotele, secondo Pomponazzi, e Pomponazzi aveva ragione. Pomponazzi richiama anche, attenzione alla teoria, almeno in parte empiristica, della conoscenza, della neosiologia di Aristotele. Da cosa deriva la conoscenza? Ovviamente, Pomponazzi, esattamente come Aristotele, dice che la conoscenza superiore, la migliore conoscenza, è la conoscenza delle idee, la conoscenza degli universali. Però l'intelletto non potrebbe assolutamente arrivare alla conoscenza delle idee, se queste idee non provenissero dalle immagini. Cioè, non c'è conoscenza, dice Pomponazzi, come dice Aristotele, non c'è conoscenza senza immaginazione. D'accordo? Non c'è conoscenza senza immaginazione. Quindi le idee derivano dall'immaginazione, dai famosi fantasmi aristotelici, che a sua volta derivano dalle sensazioni, dalle percezioni degli organi di senso. Quindi, cosa vuole dire Pomponazzi? Immaginiamo per assurdo che l'intelletto, se vogliamo identificarlo con l'anima, che l'intelletto esista senza il corpo, ok? Che l'anima esista senza il corpo. Per assurdo. Se immaginiamo l'anima separata dal corpo, l'intelletto separato dal corpo, l'intelletto, l'anima, non potrebbero neppure funzionare. Non conoscerebbero niente se separati dal corpo. Perché l'intelletto conosce e estrae le idee dalle immaginazioni, dai ricordi che appunto l'immaginazione ha delle percezioni degli organi di senso. Quindi, anche volendo ipotizzare un animo, un intelletto separato dal corpo, quell'intelletto non avrebbe alcuna attività, non avrebbe alcun contenuto al suo interno, non produrrebbe nessun tipo di idee. L'intelletto, l'anima, può produrre le idee, può funzionare, può svolgere il suo compito, il compito a cui è destinato dalla natura, soltanto se l'intelletto, la facoltà più alta dell'anima, si trova continuamente a contatto con i sensi. Perché continuamente i sensi producono percezioni sensibili che diventano immaginazioni quando non sono più attuali ai cinque sensi, e queste immaginazioni vengono poi passate continuamente all'intelletto. Senza una stretta integrazione psicofisica tra intelletto, immaginazione e sensibilità, l'intelletto, anche volendolo, ipoteticamente, astrettamente, immaginare, considerare, separato dal corpo non avrebbe più alcune idee al suo interno, perché le idee gli provengono dai sensi. Non potrebbe più funzionare, sarebbe vuoto, sarebbe del tutto inutile, sarebbe del tutto inerte. La conoscenza è possibile solo alle immagini, che sono una produzione sensibile, quindi l'anima intellettiva, dice Pomponazzi, c'è la parte più nobile delle tre parti dell'anima, non può essere in nessun modo considerata del tutto indipendente dal corpo. Senza il corpo, lo ripeto, l'anima non avrebbe alcuna possibilità di agire. L'anima, come il corpo, dice Pomponazzi, nasce e muore, come tutti gli elementi naturali, e questo sosteneva Aristotele. E questa non è una teoria eretica, non è smentire, insomma, la scolastica aristotelica, che appunto adattava Aristotele al cattolicesimo, in particolare per l'immortalità dell'anima, ma non soltanto c'era un'altra grande questione, anche l'universo che secondo l'interpretazione scolastica di Aristotele, l'universo in Aristotele era creato dal nulla, come dal Dio cristiano, ma anche in questo caso Aristotele dice un'altra cosa, cioè che l'universo è increato, che l'universo è eterno. E quindi, se vogliamo essere proprio pignoli, non vi è soltanto la questione dell'immortalità dell'anima, che in realtà appunto è mortale, quindi diciamo la mortalità dell'anima, che impedisce la conciliazione tra Aristotele e cattolicesimo, ma anche la questione dell'universo increato, dell'universo eterno, che quindi è in contrasto anch'esso con la dottrina cattolica. Quindi vedete, non è solo l'immortalità dell'anima, ci sono altre questioni, in particolare quella della negazione, della creazione dell'universo da un Dio, ci sono altre questioni che rendono la filosofia di Aristotele incompatibile con la dottrina cattolica, esattamente come Averroè, che era musulmano, aveva dovuto concludere che la filosofia di Aristotele fosse incompatibile con le verità rivelate del Corano, le verità rivelate dell'Islam. Da questo punto di vista, Islam e cristianesimo cattolico avevano la stessa impostazione. E allora non è eretica questa teoria, come se la cava con Pomponazzi, Pomponazzi se la cava con la dottrina della doppia verità, vi ricordate che ne abbiamo già parlato, ne abbiamo già parlato a proposito di Averroè, la teoria della doppia verità veniva chiamata anche Averroismo ed era stata già praticata, infatti noi ne abbiamo già parlato, anche dall'Averroismo latino medievale all'Università di Parigi, ricordate Sigiri di Brabante e così via. E la doppia verità era un modo, in qualche modo, per sfuggire alle persecuzioni. Dante per esempio è al contrario alla doppia verità, infatti mise all'inferno un cavalcanti, che era un discepolo appunto di Sigiri di Brabante, che la praticava all'Università di Teologia di Parigi. Cosa diceva la doppia verità? Lo ricordiamo velocemente. La doppia verità distingueva una verità che può essere attinta dalla filosofia, dalla ragione, e una verità che deve essere accettata per fede, ovvero per rivelazione, sulla base di quello che ci testimoniano i profeti, i testi sacri, direttamente ispirati dal Dio. Quindi si può fare questa distinzione. ragionando con la sola ragione, con la filosofia, dice Pomponazzi, come dicevano altri in passato, prima di lui, ragionando solo da filosofi, solo con la pura ragione, con la filosofia, con la ragione non assistita dalla rivelazione, noi dobbiamo arrivare, come vi ho detto, necessariamente alla conclusione che l'anima è mortale, muore col corpo. Però c'è un'altra verità, perché che l'anima sia mortale è incompatibile con la fede, e quindi noi sappiamo che c'è un'altra verità, non quella di ragione, non quella della filosofia, che ci dice che l'anima è immortale, però se non ce lo dicesse la fede, la rivelazione, il testo sacro, noi non potremmo saperla, perché con mezzi puramente umani, razionali, filosofici, noi arriveremo a concludere che l'anima è mortale. In realtà la doppia verità implica che una di queste verità sia quella vera, anche Pomponazzi dice, la verità vera, la verità tra queste due verità, qual è quella effettivamente vera? È quella della rivelazione della fede, noi dobbiamo credere quindi che l'anima è immortale, perché ce lo dicono le sacre scritture, è la Chiesa Cattolica che interpreta le sacre scritture. Ma se noi ragionassimo solo da filosofi, noi arriviamo alla conclusione, come anche Aristotele, che ovviamente veniva prima della rivelazione cristiana, non poteva conoscere i contenuti della fede e della rivelazione, come Aristotele stesso diceva, arriviamo alla conclusione che l'anima è mortale. E quindi questa è la doppia verità. Aristotele e tutti noi, ragionando da filosofi, arriviamo alla conclusione che l'anima è immortale. Ma la verità vera è la seconda. L'anima è immortale, ma solo perché ce lo dice il testo, il testo biblico. Forse avete già notato, io ho già parlato la doppia verità in passato, ma lo sto ripetendo, perché è molto importante nel caso di Pomponazzi. Insomma, avete già capito che questa può essere considerata, Tante la considerava, infatti, proprio così, questa può essere considerata semplicemente una scusa, ecco, semplicemente uno strumento per nascondere le proprie idee. Cioè, io sostengo, sono un naturalista, un materialista, sostengo che l'anima muore col corpo, però per evitare persecuzioni, per evitare problemi, io dico che questa è solo la verità di ragione. Mascherandomi dietro al fatto che, va bene, c'è poi la verità di fede, la verità della rivelazione che mi dice il contrario. Pomponazzi riprende, dunque, questa teoria della doppia verità, che, ripeto, viene chiamata anche averroismo. Averroismo è il nome che viene dato in Occidente a questa teoria della doppia verità. Abbiamo già detto, parlando di averroè, nelle lezioni sulla filosofia medievale, che in averroè, in realtà, non c'è niente di questo. Si tratta di un falso. Averroè non ha mai elaborato la teoria della doppia verità. Averroè ha semplicemente detto che bisogna ammettere che quello che dice il Corano, cioè che l'anima sia immortale e altre cose, che per esempio che il mondo sia creato, non corrispondono alle verità a cui noi accediamo con la filosofia, con la semplice ragione. Quindi c'è questo contrasto. Ma Averroè non ha mai sostenuto la liceità della doppia verità. Quindi la doppia verità viene chiamata scorrettamente averroismo quando in realtà nell'opera di Averroè la doppia verità non esiste. Ok? E quindi, questo è, diciamo, ecco, vedete, la laicizzazione di Aristotele da parte del grande Pietro Pomponazzi. L'interpretazione laica naturalistica di Aristotele. Qual è la conseguenza di questo? Se non esiste l'immortalità dell'anima e che se noi finiamo con la morte, che fine fa la virtù? Che senso avrebbe essere virtuosi, essere giusti, non peccare? Perché cessa di esistere il premio soprannaturale alla virtù oppure la pena soprannaturale che dobbiamo scontare nel caso non avessimo, avessimo peccato, nel caso non avessimo nella nostra vita praticato la virtù. La virtù, dice Pomponazzi, infatti, deve essere una virtù vista anch'essa in maniera naturale, naturalistica. La virtù, dice Pomponazzi, non può essere finalizzata alla sopravvivenza dell'anima, perché la sopravvivenza dell'anima, almeno ricordate dal punto di vista della prima verità, cioè dal punto di vista delle ragioni, della filosofia, la sopravvivenza dell'anima non esiste. Quindi la virtù deve essere ricercata, come facevano gli antichi, per esempio gli stoici, per se stessa, perché è una cosa utile e buona in se stessa, ha un premio in se stessa, ha un premio in questa vita, non dobbiamo comportarci bene, perché speriamo in un premio in un'altra vita che non ci sarà, dobbiamo comportarci bene, perché il premio è all'interno della vita mondana, il premio è la serenità che accompagna tutti i virtuosi, mentre invece coloro che si comportano male, coloro che seguono il vizio, avranno una pena, perché il vizio è anch'esso pena in se stesso, cioè ti produce un'inquietudine, una forte lacerazione interiore, quindi premi e punizioni si scontano in questa vita, attenzione, qui con Pomponazzi però, introduce la visione classista, la sua visione classista, questa visione naturalistica, diciamo stoica della virtù, può valere soltanto per i sapienti, che sono moderati di per sé, ma non per il volgo per il popolo ignorante, il volgo il popolo ignorante ha bisogno per condursi bene, per non ribellarsi, per comportarsi moralmente, ha bisogno del terrore, dell'inferno, ha bisogno di motivazioni soprannaturali, e quindi, capite, la virtù e il vizio come premio in se stesso, pena in se stesso, valgono soltanto per i sapienti, invece il popolo ignorante non sa, non sa regolarsi autonomamente, ha bisogno di credere nell'immortalità dell'anima, per il popolo ignorante la morale in sé non è sufficiente per comportarsi bene, e quindi solo per il popolo è necessaria la religione con le sue credenze terrorizzanti che spingono il popolo a comportarsi bene, promettendo al popolo una evidentemente fasulla immortalità dell'anima, un fasullo paradiso, oppure terrorizzando il popolo con la paura dell'inferno e quindi in Popolazzi abbiamo una visione come dire cinica utilitaristica della religione la religione come instrumento un regno un uso politico della religione instrumento un regno uno strumento per regnare e tenere buono il popolo volgare ignorante e insolente la religione vista come invenzione realizzata a tavolino da parte di abili preti e politici e governanti perché la religione serve per tenere buono il il popolo l'uso politico della religione esattamente come in Machiavelli naturalmente questa teoria rende molto simile Pomponazzi a Machiavelli che dice la stessa cosa Machiavelli dice la stessa cosa soprattutto nell'opera dedicata alla prima deca di Tito Livio d'accordo quindi anche secondo Pomponazzi la teoria è la stessa di Machiavelli secondo Pomponazzi i sacerdoti diffondono nel popolo volutamente credenze false ma sono credenze necessarie utili per tenere a bada il popolo occultano quelle verità filosofiche che sono dannose al popolo che il popolo non potrebbe sostenere di cui il popolo approfitterebbe e il risultato sarebbe l'impossibilità della convivenza civile quindi le verità delle favole soprannaturali per il popolo sono necessarie perché funzionano come guida morale questo è un altro motivo per cui Pomponazzi è davvero un personaggio importante ingiustamente sottovalutato rispetto a Machiavelli Pomponazzi parla dell'invenzione politica della religione esattamente come Machiavelli anzi ne parla in maniera più esplicita in maniera ancora più chiara rispetto a Machiavelli questa teoria dell'uso politico dell'invenzione politica della religione poi è inutile che ve lo riconosano tutti sarà la base dell'analoga teoria del secolo successivo da parte dei libertini francesi come Nodet Boulainvillier Silano de Bergerac quello vero non il personaggio con il nasone della commedia di Rostan il filosofo del 600 Silano de Bergerac Boulainvillier ma soprattutto Gabriel Nodet che studieremo nelle lezioni sui libertini francesi Gabriel Nodet il Machiavelli francese l'autore dell'opera considerazioni politiche sui colpi di stato in cui appunto dice che la religione deve essere inventata apposta fatta credere al popolo per insomma in maniera classista affinché il popolo non venga tenuto buono si ribelli quindi sia Machiavelli sia Pomponazzi attenzione sono precursori cinquecenteschi del libertinismo seicentesco da questo da questo punto di vista anticipano di un secolo questa teoria fondamentale dei libertini francesi del 600 c'è la religione come instrumentum regni teoria che affonda le sue radici anche in in Cicerone ma soprattutto negli antichi sofisti ricordate per esempio Crizia il famoso frammento di Crizia che dice sostanzialmente è la stessa la stessa cosa quindi qual è la conclusione che Pomponazzi azzarda una fondazione puramente naturalistica della morale la morale è separata dalla religione la morale è autonoma da qualunque fondamento religioso e metafisico ricordate che una delle caratteristiche del rinascimento è l'autonomizzazione è delle discipline delle varie discipline rispetto alla teologia rispetto alla metafisica questo avviene anche con la morale e la politica di Machiavelli la politica di Machiavelli deve basarsi su principi propri interni alla politica stessa la morale e la politica per Machiavelli non devono derivare da principi religiosi da principi metafisici la stessa cosa vale per Pomponazzi la morale ha una fondazione autonoma rispetto alla religione rispetto alla alla teologia la teologia intesa come teologia rivelata la morale per Pomponazzi si basa sulla ragione cioè sulla filosofia e quindi come in tanti altri personaggi anche in Giordano Bruno abbiamo visto la separazione tra teologia e filosofia e quindi anche in Pomponazzi la religione e la filosofia sono due cose diverse a differenza per esempio che in Ficino e Pico che vi ricordate consideravano il sapere filosofico come una forma superiore di religiosità e in Pomponazzi non è così Pomponazzi ritorna attenzione sulla teoria dell'uso politico cinico utilitaristico della religione di cui ha già parlato però ampiamente nel Diani ma anche la seconda sua opera che noi consideriamo il De Incantazionibus sulle incantazioni oppure potete tradurre anche sugli incantamenti esistono infatti due opere controverse di Pomponazzi che vengono pubblicate postume il De Incantazionibus sugli incantamenti viene pubblicata postuma nel 1556 a Basilea anche se attenzione Pomponazzi l'aveva già scritta in vita nel 1520 cosa dice il De Incantazionibus anche qui appunto si parla della teoria utilitaristica della religione per tenere buono il volgo ma la dottrina fondamentale del De Incantazionibus è un'altra il cosiddetto oroscopo delle religioni così lo chiamano Pietro Pomponazzi una sorta di singolare determinismo astrologico Pomponazzi mettendo insieme e mischiando magia e visione invece più da una parte la magia dall'altra una visione meccanicistica forse meccanicistica no ma deterministica più vicina alla nuova scienza che sarà di Galileo di Cartesio dice che tutto è determinato che tutto è necessario che non esiste la contingenza che non esiste il miracolo che non esiste l'evento straordinario tutto è già scritto tutto è determinato tutto è necessitato sulla base dei movimenti degli astri cioè ci sono degli influssi degli astri sulla nostra terra che fanno sì da determinare tutto in maniera necessaria il famoso determinismo astrologico di Pomponazzi che tuttavia insieme ad altri ad altre posizioni deterministiche ve le ricordate ne abbiamo ne abbiamo già parlato di altri anche dei primi umanisti anticipa in qualche modo la scienza moderna la caratteristica fondamentale della scienza moderna cioè la regolarità l'inviolabilità la necessità delle leggi naturali sempre sempre uguali a se stesse eterne immutabili e quindi per Pomponazzi anche le religioni pensate esistono in un quadro puramente deterministico ogni religione necessariamente nasce per via dell'influsso degli astri attenzione si sviluppa e poi però finisce come tutte le cose attenzione gli astri i pianeti gli astri determinano in maniera necessaria tutti i fenomeni della terra e fanno in modo che tutti gli eventi sulla nostra terra abbiano una nascita una crescita un sviluppo ma anche inevitabilmente una fine non c'è nulla tra le cose terrestri che non sia destinato a finire quindi anche le religioni e quindi anche la religione cristiana anche le religioni sono regolate dagli astri sono sottomesse ad un destino necessario e puramente naturale come tutti gli altri eventi naturali le religioni nascono come vi ho detto si sviluppano muoiono lo stesso cristianesimo attenzione secondo Pietro Pomponazzi è destinato a finire e anzi lui profetizza che il cristianesimo è vicino alla fine ci sono tutti i segni dell'esaurimento della prossima fine del cristianesimo ricordate che e questo sarà affermato anche da Giordano Bruno nell'opera lo spaccio della bestia trionfante il cristianesimo è destinato a finire perché come tutti i fenomeni umani visti come naturali naturalistici sono destinati a tramontare anzi il tramonto del cristianesimo sembra imminente Pomponazzi dice che i miracoli nel cristianesimo sono sempre più rari e quindi l'alternarsi delle religioni è inevitabile non c'è mai una religione che sarà istituita per sempre sconfiggendo le altre tutte le religioni nascono e muoiono e quindi questo dipende dai cicli astrologici dall'influsso dall'influsso degli astri e ciò vale per il cristianesimo ma ciò vale anche per tutte le altre religioni sempre nuovi legislatori sempre nuovi profeti sempre nuovi dei nascono e si sostituiscono a quelli precedenti Pomponazzi è davvero un determinista nel senso moderno del termine come Galileo come Cartesio per quanto riguarda la natura ma questo determinismo si allarga anche all'uomo si estende anche all'essere umano quindi Pomponazzi negherebbe il libro arbitrio farebbe anche dell'uomo un essere un essere necessitato è possibile una cosa del genere Pomponazzi dice che tutti i fenomeni tutti sono soggetti a un ordine naturale hanno sempre una spiegazione naturale anche quando un fenomeno sembra straordinario quando sembra soprannaturale quando sembra una violazione dell'ordine della natura di quel fenomeno c'è sempre una causa naturale da questo punto di vista Pomponazzi sembra davvero laico naturalista e addirittura scientifico da un certo punto di vista Pomponazzi rifiuta la sospensione delle leggi di natura rifiuta l'evento eccezionale che viola la legge di natura Pomponazzi propone una natura che costituisce un ordine necessario di fenomeni retto da leggi fisiche immutabili questo lo rende molto moderno è una cosa scientifica sembra il meccanicismo di Cartesio però la cosa singolare è che alla base di questo determinismo vi è l'astrologia vi è l'influsso di spiriti che vengono dal dal cielo e quindi è un determinismo appunto con una causalità astrologica e Pomponazzi in alcuni passi sembra non escludere del tutto i miracoli per esempio dice che esistono soprattutto sono esistiti in passato i miracoli del cristianesimo tuttavia i miracoli sono rari e da un certo punto di vista non possono neanche essere chiamati miracoli che cos'è il miracolo per Pomponazzi è un evento eccezionale un evento raro è un evento che non dovrebbe avvenire secondo le leggi della natura e però avviene e però tuttavia anche il miracolo può essere ricondotto a una causalità naturale il fenomeno eccezionale in realtà anch'esso ha una causa nell'ordine necessario della natura non è un fenomeno che ha una causa soprannaturale miracolistica dovuta ad un'intelligenza esterna alla natura come quella di un dio cristiano providente e personale Pomponazzi pensate arriva a dire che persino Dio che Dio stesso è sottomesso al determinismo astrologico Dio potrebbe pensate modificare i fenomeni modificare l'ordine naturale soltanto in maniera indiretta non diretta con il suo intervento diretto sulla natura ma soltanto in maniera indiretta cioè sapete come andando a spostare un po' i pianeti di orbite e la posizione dei pianeti cioè Dio potrebbe intervenire anche lui soltanto innescando una causa astrologica andando a muovere qualche pianeta e così via intervenendo diciamo Dio nel mondo terrestre soltanto indirettamente agendo sui corpi celesti quindi la conclusione è che per Poponazzi la causalità naturale assorbe ogni fenomeno religioso anche cristiano all'interno di questo determinismo Poponazzi crede all'astrologia deterministica per lui l'astrologia è comprovata dall'esperienza noi abbiamo grandi autori dell'antichità come Livio Sbetonio ma soprattutto Plutarco che ci testimoniano la verità dell'astrologia che ci testimoniano le profezie le predizioni degli astrologi che si sono poi rivelate e quindi ogni mutamento prodotto nella storia umana attenzione secondo Poponazzi è stato sempre accompagnato o preceduto da eventi eccezionali dal punto di vista naturale che ne hanno permesso la previsione Poponazzi dice che coloro che hanno creduto all'astrologia e si sono comportati in base ai segni dell'astrologia hanno sempre avuto successo e hanno sempre avuto successo dal punto di vista politico militare mentre invece i grandi personaggi governanti o in generali che hanno trascurato i segni le profezie venute dagli astri invece sono andati incontro alla rovina al disastro Poponazzi afferma che attraverso gli eventi naturali che rappresentano dei segni rappresentano delle predizioni astrologiche Dio ha inteso aiutare l'essere umano capite soccorrere l'essere umano assistere la ragione umana nel prevedere eventi cui la ragione umana non poteva giungere e quindi che fine fa il libro arbitrio dell'uomo ripeto la domanda precedente l'essere umano anch'esso viene ridotto ad un'entità deterministica non è più libero non esiste il libro arbitrio Poponazzi in maniera singolare nelle incantazioni bus cerca di difendere il libro arbitrio dell'uomo ma in realtà non ci crede neanche lui si scontra con la sua stessa dottrina del determinismo astrologico e deve ammettere che l'uomo è determinato dalla necessità dei cieli ma quindi questo vuol dire che non esiste il libro arbitrio nell'uomo quindi che fine fa la responsabilità il peccato l'uomo non ha più responsabilità non è libero quindi non ha senso parlare di peccato se anche dovessimo dire che l'uomo peccasse lo fa involontariamente perché è determinato Pomponazzi parla riprende questa questione il problema del determinismo applicato alla libertà umana nell'ultima opera nell'ultima sua opera di cui parliamo c'è il defato il defato anch'essa un'opera pubblicata postuma a Basilea nel 1567 come il De Incantazioni Busma pubblicato ecco undici anni dopo il De Cantazioni Pomponazzi torna sul problema del determinismo chiedendosi che fine fa il libero arbitrio dell'uomo Pomponazzi deve arrendersi al fatto che il determinismo sia invincibile anche facendo riferimento ad Aristotele Pomponazzi sostiene che l'interpretazione coerente e corretta del testo di Aristotele esclude in ogni caso la libertà umana ma come Aristotele più volte ha detto che l'essere umano è libero ma no Pomponazzi dice che quando Aristotele attenzione ammette la libertà umana Aristotele è in contraddizione con se stesso quindi attenzione Pomponazzi nei suoi ultimi anni non arriva più soltanto a dare la sua interpretazione di Aristotele che peraltro abbiamo visto per quanto riguarda l'immortalità dell'anima o meglio la mortalità dell'anima era corretta ma anche proprio a invalidare cioè attenzione a criticare in maniera chiara il testo di Aristotele cioè Pomponazzi arriva a dire che a volte Aristotele dice delle cose chiaramente le pensa nel testo nelle sue opere ma queste cose non sono vere Pomponazzi arriva addirittura a pensare lui aristotelico che non ci si possa fidare sempre di Aristotele che Aristotele a volte sbagli ma Aristotele era la filosofia o almeno per Pomponazzi lo era eppure Pomponazzi ammette questo Aristotele dice più volte che l'essere umano è libero e Pomponazzi arriva alla conclusione che quando Aristotele dice questo va in contraddizione con altri principi più importanti della sua filosofia e da un punto di vista filosofico Pomponazzi perviene da una concezione che possiamo chiamare stoica non si può non ammettere un determinismo assoluto in cui tutto ciò che avviene è inevitabile compreso il male compresa l'ingiustizia della vita umana ciò è incompatibile con il dio cristiano ecco l'idea tipicamente cristiana del libero arbitrio Pomponazzi lo sa benissimo ma deve ammettere comunque questa conclusione il libero arbitrio dice Pomponazzi potrebbe essere ammesso soltanto se si accetta la rivelazione ricordate la doppia verità e può essere ammesso soltanto dalla rivelazione non certo dalla ragione ma la rivelazione insiste nel dire Pomponazzi non può essere giustificata razionalmente e quindi se noi ragioniamo non da uomini di fede ma da filosofi appunto come nello stile della doppia verità il filosofo non può fare niente contro il determinismo qui Pomponazzi introduce la sua famosa immagine del filosofo come un nuovo prometeo il filosofo nella condizione di prometeo che cerca di inventare qualcosa che cerca di risolvere un problema ultimativo ma non ci riesce prometeo incatenato a problemi che non può risolvere allo stesso modo il filosofo vorrebbe dimostrare il libro arbitrio e sconfiggere il determinismo ma questo sulla base della ragione umana è assolutamente impossibile Pomponazzi ci prova Pomponazzi abbozza alcuni tentativi di costruire una filosofia della libertà ma abbiamo già detto non ci crede neanche lui si deve arrendere perché che cosa dice Pomponazzi che una filosofia della libertà non può essere compatibile col testo di Aristotele quindi il filosofo il nuovo prometeo frustrato dovrebbe costruire una filosofia completamente nuova sganciata da Aristotele con basi completamente nuove che Pomponazzi non sa assolutamente trovare una filosofia della libertà sarebbe una filosofia non aristotelica soltanto una filosofia completamente nuova sganciata da Aristotele potrebbe aggirare questo fatalismo stoico ma alla fine Pomponazzi si arrende il determinismo assoluto è insuperabile è anche l'essere umano è del tutto privo del libero arbitrio questa è la conclusione di Pomponazzi vogliamo vedere da un punto di vista generale tutte le cose che abbiamo detto su Pomponazzi quale significato hanno perché molti non riflettono approfonditamente sul grande significato di questo notevole personaggio la riflessione di Pomponazzi in generale arriva a delle conclusioni che riducono le pretese dell'uomo l'uomo può conoscere le cose solo le cose che si possono cogliere con i sensi e deve rinunciare a una conoscenza superiore a una conoscenza simile a quella di Dio la conoscenza superiore che va al di là dei sensi impossibili secondo Pomponazzi sia in questa vita sia in un'altra ipotetica vita ricordate in un'altra vita che però può essere ammessa solo con la fede con la rivelazione e non dal punto di vista della ragione quindi la modestia dell'umanesimo di tanti altri autori che abbiamo visto investe anche Pomponazzi Pomponazzi dice che l'uomo deve accontentarsi di una conoscenza limitata l'uomo è destinato a esprimersi più da un punto di vista morale nella vita piuttosto che da un punto di vista conoscitivo l'uomo ha una funzione da svolgere qualcosa da dire in questa vita da un punto di vista pratico morale non da un punto di vista metafisico l'uomo deve accettare i suoi limiti l'uomo deve rinunciare alla pretesa di un sapere e ogni comprensivo totalizzante e qui vengono in mente tanti umanisti come per esempio Montegne il raggiungimento della verità non può basarsi neppure più sull'interpretazione del testo aristotelico perché lui vedete a volte invalide il testo aristotelico dice che non è sufficiente io potrei farvi degli altri esempi che non vi ho fatto prima per esempio facciamo una parentesi finale Pomponazzi dice che a volte non si può credere nel sillogismo ma come il sillogismo costruito in maniera valida come Aristotele insegna dovrebbe darci la verità Pomponazzi dice che non è così perché quando c'è una dimostrazione empirica che un sillogismo aristotelico sia falso non bisogna credere al sillogismo ma all'esperienza e quindi vedete che anche il testo aristotelico non è più una guida per Pomponazzi Pomponazzi fa un famoso esempio dice che secondo i sillogismi aristotelici in una certa zona dell'Africa non dovrebbero resistere i leoni oppure non dovrebbero resistere popoli non dovrebbero resistere gli esseri umani ma dice io ho ricevuto una lettera dal mio amico che mi dice che in una certa zona dell'Africa a differenza di quello che dice Aristotele ci sono sia i leoni sia l'essere umano devo credere al sillogismo di Aristotele o all'esperienza del mio amico devo credere all'esperienza del mio amico quindi vedete che Pomponazzi a un certo punto abbandona anche la guida addirittura del testo aristotelico quando il testo aristotelico gli sembra confliggere con l'esperienza con la pratica concludiamo con Pomponazzi l'influenza umanistica che abbiamo già visto in opera in tanti autori l'influenza umanistica che ci spinge a preferire un orientamento pratico agisce anche su Pomponazzi la possibilità della conoscenza dell'uomo è limitata l'uomo deve orientarsi più alla morale più alla pratica più verso la scienza più verso la comprensione della natura piuttosto che verso la comprensione della metafisica oppure della comprensione di Dio io vi ringrazio se siete stati così pazienti fin qua perché io ho concluso con Pomponazzi temo di aver svolto una lezione diciamo molto lunga più lunga di quella di quel che che pensavo quindi vi ringrazio continuate a vedere le mie video lezioni e anche ovviamente le mie video lezioni dedicate a questi umanisti a questi rinascimentali non soltanto a quelli italiani vedete personaggi che a volte vengono ingiustamente sottovalutati e spesso sintetizzati oppure proprio espunti dai libri dai libri scolastici e che invece io come potete riscontrare sto cercando di trattare con un maggior approfondimento con un dettaglio con un dettaglio maggiore di quello che di solito viene viene accordato allora a questi a questi personaggi che sono pur sempre importanti dalla filosofia dell'umanesimo e del rinascimento io vi ringrazio vi saluto qui ci vediamo alla prossima lezione arrivederci a Grazie a tutti.